Musica Buonasera, bentrovati al nostro telegiornale della sera, andiamo subito a leggere i titoli perché fatti di cronaca sono molti. L'acqua continua a sommergere i piani interrati della centrale idroelettrica di Bargi sul bacino di Suviana. Per questo motivo i soccorsi sono quasi impossibili e le ricerche dei quattro disperse sono state al momento sospese, aperta un'indagine per disastro e amicidio colposo. Il processo dell'incendio alla discarica del cassero si è concluso con l'assoluzione del presidente e direttore dell'impianto, il fatto risale a luglio 2016. Festa grande per la polizia di Stato che è giunta al traguardo dei 172 anni dalla fondazione. A Pistoia è stato un gremitissimo teatro manzone ad ospitare l'evento. Misteri e case risolti italiani è il tema del 14esimo Festival del Giallo che si terrà a Pistoia da venerdì 2 al lunedì 15 aprile, un programma con oltre 30 scrittori italiani. Il presidente del Pistoia Basket Massimo Capecchi che in settimana lascerà la sua carica a Ron Rowan è intervistato nella trasmissione di basket tiro libero in onda domani sulla nostra rete. Come avete sentito sono state sospesse le ricerche delle quattro persone ancora disperse nel tragico incidente avvenuto ieri pomeriggio alla centrale idroelettrica di Baggi sul bacino di Suviana nella provincia di Bologna ma a poche decine di metri da quella di Pistoia. Siamo sull'Appennino Tosco Emiliano infatti. L'acqua continua a salire e i locali interessati dall'esplosione dal piano meno 9 in su sono semi distrutti allagati al momento quasi impossibile da raggiungere in sicurezza. Ad ora quindi il bilancio è sempre di tre morti, cinque feriti gravi, uno ricoverato al centro grande ustione di Pisa per gli altri in vari ospedali emiliani e quattro dispersi. Le vittime sono Vincenzo Franchina, 36 anni, di Sinagra, provincia di Messina, Pavel Petronel Tannasi, 45 anni, nato in Romania ma residente a Settimo Torinese, Mario Pisano, 73 anni, di Taranto, ex dipendente Enel. L'evento catastrofico è avvenuto probabilmente a causa dello scoppio di una turbina, forse a causa di un cortocircuito a circa 40 metri di profondità sotto il livello del lago. Infine, notizia di poco fa, la Procura della Repubblica di Bologna ha aperto un'inchiesta. Per disastro e omicidio colposo, e proprio su questo disastro è intervenuto il dottor Piero Paolini della centrale Cross di Pistoia. La situazione è una situazione molto, molto difficile perché la logistica del luogo non permette, non ha permesso sostanzialmente interventi di soccorso e di recupero, perché i locali, oltre che crollati, sono allagati dall'acqua, che l'acqua peraltro continua ancora a salire. Tanto è vero che stiamo interrompendo le operazioni e in questo momento il personale, sia WF che il personale sanitario, sta caricando tutto il materiale perché quando si muovono, si muovono con una quantità enorme di materiale, appunto per fare questi soccorsi e stanno rientrando. Purtroppo, lo dico perché è un evento sicuramente non positivo, le operazioni di recupero vengono sospese. Per consentire in sicurezza la ricerca dei dispersi, ci ha spiegato il dottor Paolini, a capo della Cross, che ha sede a Pistoia, sarebbe necessario far defluire l'acqua che ha sommerso i locali della centrale idroelettrica. Una possibilità sarebbe quella di abbassare il livello del bacino di Suviana, che serve buona parte della Piana Emiliana. Queste squadre che si chiamano user, cioè le persone che vanno a soccorrere e recuperare le persone sotto le macerie, è formata dalla componente vigile del fuoco e dalla componente sanitaria. Noi in questo momento abbiamo inviato otto sanitari, uno che ha un ruolo di coordinatore, due medici e cinque infermieri. Sono tutte persone che fanno parte di un gruppo più ampio, regionale, che provengono da tutti i 118 della Toscana, di 52 colleghi per andare a recuperare le persone sotto le macerie. E che ricordo sono quelle che hanno fatto l'intervento in Turchia durante il disastroso terremoto, recentemente nel disastro avvenuto a Firenze nella costruzione del supermercato e ora in questo tragicissimo evento. Inoltre, sempre attraverso la centrale del coordinamento regionale delle maxi emergenze, che è qui a Pistoia, siamo stati anche contattati dall'Emilia Romagna per accogliere uno dei pazienti ustionati. Abbiamo inviato un nostro elicottero e il paziente è stato trasportato attualmente adegente presso il centro grande ustione di Pisa. E proprio sulla tragedia di Suviana andiamo a sentire il comandante dei Vigili del Fuoco di Pistoia, che per anni ha coordinato a livello nazionale tutti gli scenari di maxi emergenza. Lei prima di assumere il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Pistoia, ha coordinato per anni il centro operativo nazionale per le maxi emergenze, ha gestito il disastro della costa Concordia, Rigopiano, il terremoto del centro Italia. A Suviana, qual è lo scenario che i soccorritori si stanno trovando davanti? Allora, lo scenario ovviamente questo è forse tra i più complessi che possiamo avere a che fare, perché abbiamo uno scenario di crollo e uno scenario di scoppio con possibili incendio, ovviamente nelle prime fasi, e poi uno scenario di possibili allegamenti di zone. Per cui si deve concentrare di essere specialità, per cui la parte acquatica e la parte non acquatica. Devo lavorare in coordinamento, c'è una fortissima azione di coordinamento, di supporto. La Toscana ovviamente come regione ha contribuito e ha inviato unità specializzate, in particolare per il soccorso di Maceria in Emilia Romagna. E anche Pistoia ha contribuito con un'unità che è partita proprio ieri sera e sta lavorando sullo scenario insieme alla squadra toscana. Ancora cronaca con Marta Quillici. Si è concluso stamattina con l'assoluzione degli imputati il processo sull'incendio della discarica del Cassero a Serravalle Pistoese del 2016. Il processo sull'incendio alla discarica del Cassero risalente a luglio 2016 si è concluso con l'assoluzione dal reato di incendio colposo di Alfio Fedi e Michele Menichetti, il primo ex presidente del Consiglio di Amministrazione di Pistoia Ambiente che all'epoca dei fatti era gestore dell'impianto, il secondo ex direttore tecnico dello stabilimento. Entrambi erano accusati anche di violazione della legge sui rifiuti, reato che però è andato prescritto. Pistoia Ambiente ha correttamente ricevuto dei rifiuti secondo le classificazioni che competevano ai produttori, facendo i controlli che la legge gli impone. Detto questo, noi abbiamo sempre sostenuto che le cause dell'incendio, la causa dell'innesco non sono note, non sono state chiarite ed era un compito che aspettava al pubblico ministero. Le ipotesi sono molte, tra le quali non va esclusa l'ipotesi dolosa che noi abbiamo sempre ritenuto come una delle possibili o delle probabili, ma siccome la responsabilità per l'incendio colposo si lega essenzialmente allo sviluppo dell'incendio, non tanto al fatto che si verifichi un fuoco, ma allo sviluppo, noi abbiamo dimostrato come Pistoia Ambiente si è intervenuta tempestivamente con mezzi, risorse idriche, terra per arginare lo sviluppo dell'incendio. Anche in ordine al rispetto della normativa in materia di sicurezza, in particolare di quell'antincendio, è stato documentato come effettivamente i presidi posti a tutela della discarica fossero sufficienti, corretti, adeguati. Che dire, che i procedimenti che attingono questioni ambientali, ahimè sono dei procedimenti particolarmente complessi, nonostante la materia sia delicatissima, sono dei procedimenti che involvono tutta una serie di questioni sulle quali evidentemente c'è bisogno di una particolare e maggiore attenzione, a mio avviso, da parte del legislatore. Quando un procedimento di questa mole finisce, finisce in un senso che non ci lascia soddisfatti, impone a chi ritorna in studio di attendere le motivazioni della sentenza, di guardarle, di studiarle, di rispettarle e di avversarle laddove si riterrà di doverlo fare. Assolto perché incapace di intendere e di volere al momento del fatto. Si è concluso così il processo davanti alla Corte di Assise di Firenze. L'omicidio dell'omicidio di Massimiliano Matteone, il meccanico 54enne, ucciso l'11 dicembre 2022 da uno dei figli, affetto da disturbi di salute mentale. Il giovane si era incontrato con il padre nel piazzale, a retrostante la discoteca Don Carlos di Chesino-Ozzanese, e qui lo avrebbe accoltellato una prima volta all'addome. Lo avrebbe poi portato in auto nei boschi sulle colline di Borgabuggiano e dopo avergli inferto altre coltellate e averlo con sparso di benzina, gli avrebbe dato fuoco. Alla luce dei problemi di salute mentale del giovane, il pubblico ministero Claudio Curelli della Procura di Pistoia ha chiesto l'assoluzione dei ragazzi e l'applicazione della misura di sicurezza per 15 anni nella residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza di Empoli, struttura destinata all'accoglienza di autori di reati affetti da disturbi mentali e socialmente pericolosi, richiesta a cui si sono associate anche le parti civili che rappresentano gli altri due figli di Matteoni assistiti dagli avvocati Alessio Santini e Sandro Malucchi, pienamente accolta dalla corte d'assise. Avevano invece chiesto la condanna la compagna di Matteoni e di figli di lei. In tutta Italia si è svolta la festa della Polizia di Stato giunta ad un traguardo ragguardevole, 172 anni. Una storia lunga, 172 anni, quella della Polizia di Stato italiana, festeggiata a Pistoia al Teatro Manzoni, con la presenza delle istituzioni del territorio, i rappresentanti delle forze dell'ordine, associazioni di categoria e tanti altri ospiti speciali dell'area provinciale, oltre ad alcune scuole superiori pistoiesi. Una festa che ha visto prima il discorso del questore di Pistoia Marco Dal Piaz, poi la premiazione di alcuni membri della Polizia per situazioni in cui si sono distinte a favore dell'ordine pubblico, intervallato dalla musica degli studenti del liceo musicale di Pistoia. All'evento è stata protagonista anche la Fondazione Mike, con la realizzazione di alcuni premi e l'esibizione del neonato a corso di musica. L'attività della Polizia ha visto un calo significativo dei reati denunciati nel 2023. Solo 9.441 contro gli oltre 10.000 del 2022. È un'emozione come prima uscita, ma sicuramente un'emozione da 42 anni che sono in servizio nella Polizia di Stato per ogni festa della Polizia che abbiamo affrontato. Quindi vivo sempre insieme ai nostri uomini, alle nostre donne della Polizia di Stato, ogni festa con grande emozione e con grande partecipazione. Cosa vuol dire far parte della Polizia di Stato? È un onore o è un onore importante? Allora, io ho sempre definito la nostra attività, che non me ne voglia alcuno, il mestiere più bello del mondo, perché lo si fa soltanto e esclusivamente per passione, non lo si fa come semplice e mera attività lavorativa. È una passione che nasce dentro di noi il primo giorno che si entra in una scuola di Polizia e si porta fino anche all'ultimo giorno, ma anche dopo il pensionamento. E noi dobbiamo soltanto essere fieri ogni giorno di appartenere a questa istituzione che non è soltanto un'istituzione, per noi è anche una grande e bella famiglia. Noi ci stringiamo sempre tra di noi nel momento del bisogno e questa è una grande cosa per tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato. A Pistoia è stato arrestato un imprenditore per bancarotta fraudolenta. La Guardia di Finanza di Pistoia ha arrestato ora ai domiciliari un imprenditore pistuiese di 52 anni ritenuto responsabile di bancarotta fraudolenta patrimoniale documentale, omessa richiesta di apertura della liquidazione giudiziale, appropriazione in debita aggravata e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Il provvedimento è stato emesso dalla giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia su richiesta della Procura della Repubblica. Il tutto ha preso il via dopo le operazioni di controllo scaturite nell'ambito del fallimento di una società a responsabilità limitata, già attiva nel settore della fabbricazione di infissi, porte ed imposte. Le indagini hanno fatto emergere come l'amministratore di fatto della società sia autonomamente che con il concorso dei due amministratori che si sono succeduti nel tempo, anch'essi denunciati, oltre ad aver tenuto la contabilità in modo tale da non consentire la ricostruzione del reale patrimonio aziendale, ad aver distratto oltre 219 mila euro e ad aver omesso di richiedere l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, l'ex fallimento, si era reso responsabile del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e di numerosi episodi di appropriazione in debita in danno di 29 clienti, dai quali aveva incassato acconti per l'installazione di serramenti per un totale di 128 mila euro, senza poi eseguire alcun lavoro e rifiutandosi di restituire le somme indebitamente percepite. All'età di 78 anni è morta l'attrice Paola Gasman, assieme al marito il pistoese Ugo Paglia è stata protagonista della scena teatrale italiana degli ultimi 50 anni, sorella dell'attore regista Alessandro e figlia di Vittorio e Nora Ricci, era malata da tempo ed è stato proprio il marito a dare il triste annuncio insieme ai figli Simone e Tommaso e tutta la famiglia, particolarmente legata alla nostra città data l'unione con Pagliai, coniugi erano spesso a Pistoia avendo un appartamento nel centro cittadino, per questo motivo è arrivato anche il cordoglio del sindaco Tomasi dell'amministrazione comunale e Fondazione Teatri di Pistoia, si unisce proprio al cordoglio ad Ugo Pagliai per la scomparsa della sua compagna di vita e di lavoro Paola Gasman. Parliamo di politica e andiamo a vedere chi sono i candidati ad Agliana e Montecatini. Salgono a quattro i candidati a sindaco per il comune di Agliana, dopo Guido Delfante per il centro-sinistra, Luca Benesperi attuale sindaco per il centro-destra, Roberto Bertini per il partito comunista, in piazza 4 novembre ha presentato la sua candidatura anche Ambra Torresi, avvocato 29 anni, nata a San Michele di Agliana. Sono molto soddisfatta e contenta della mia squadra di lavoro che prevede la partecipazione e l'avvallo di Italia Viva, del partito socialista italiano, dell'Udc, della lista aliana civica che attualmente risiede in opposizione in Consiglio Comunale e dell'associazione culturale Tempi Nuovi, Popoli Uniti. Quindi siamo veramente un gruppo di tante persone, oltre a civici e indipendenti che hanno accolto questo progetto e noi ci crediamo. Il bello della mia squadra è il fatto che ci sono persone che hanno sfumature diverse dal punto di vista politico ma l'obiettivo comune è quello di dare un volto nuovo a Aliana. Quello che ci contraddistingue è il fatto che abbiamo una visuale a 360 gradi sulla città, dall'imprenditoria allo sviluppo del territorio fino alla cura e all'attenzione verso i più fragili. Dobbiamo ricostituire quello che è il filo che conduce all'amministrazione con la popolazione, un filo che ormai si è perso perché Aliana oltre ad essere diventata un dormitorio non ha più nemmeno punti di riferimento e noi vogliamo essere il nuovo punto di riferimento. Il sindaco non deve più stare nelle stanze di bottoni ma deve scendere fra la gente, deve frequentare bar, piazze, pizzerie, mercati e deve vedere con i suoi occhi quello che manca e dove sono appunto le lacune. È un programma veramente diverso rispetto agli altri, non ci sono false promesse, non ci sono cose enormi ma delle piccole attenzioni che possono riportare ad essere Aliana quella che era l'Aliana di vent'anni fa un fiore all'occhiello da cui provenivano persone da Pistoia, Prato, Parrato e Montale per poter appunto trascorrere anche serate o giornate. Franco Arena, candidato sindaco per la lista civica Montecatini, una storia nuova ha presentato alla città la sua lista, le persone che, come dice lo stesso Arena hanno sposato questo progetto, apprezzate in città con un progresso professionale e istituzionale Mauro Lubrani, Leonora Lubrani, Sandra Magnani, Carlo Benvenuti, Cesare Augusto Terranova, Vincenzo Testa Nara Vescio, Cristina Balducci, Sergio Tomei, Luca Mariana Antoni, Rachele Zucconi e Gianmarco Poldaretti Il fine è quello di realizzare, trovare una soluzione alle problematiche che è la città di Montecatini Arena ha poi affrontato il tema del confronto politico anche in questa campagna elettorale Deve essere una sana competizione, ha detto l'ex colonnello della Guardia di Finanza perché il fine deve essere convergente per tutti, trovare una soluzione ai problemi di Montecatini Senza contrasti, senza ideologie diverse, ma il rispetto, il rispetto è l'arma, la serenità per poter lavorare con tranquillità e trovare il modo come condividere quella progettualità e risolvere una soluzione a questi problemati che incombono su Montecatini Come lo possiamo sintetizzare il suo progetto? Intervenire soprattutto sulla sicurezza, io sono disponibile a mettere le mie acquisizioni che ho maturato nell'arco di 40 anni nella Guardia di Finanza Poi il decoro urbano, abbellire la città, renderla un po' più bella Poi lo sviluppo economico, trovare il modo di un rilancio In coerenza col nome stesso della lista civica con cui si candida a Montecatini una storia nuova, Arena è sicuramente la faccia nuova tra i candidati a sindaco Non parto svantaggiato rispetto alle altre forze politiche Magari sarò meno conosciuto, probabilmente mi conoscono meno rispetto agli altri Però potrebbe essere anche la novità, l'innovazione e qualcosa in più che la città potrebbe anche avere un cambio di passi, una marcia Sabato 20 aprile alle 10.30 al Cinema Imperiale è previsto un ulteriore appuntamento elettorale con l'incontro di Franco Arena con la città Torniamo a Pistoia, è stato presentato il Festival del Giallo che partirà venerdì Misteri e casi risolti italiani è il tema del 14esimo Festival del Giallo che si terrà a Pistoia da venerdì 12 a lunedì 15 aprile un programma che vedrà incontrare il pubblico presso la biblioteca San Giorgio oltre 30 scrittori italiani che parleranno e faranno riflettere su alcuni dei misteri che hanno accompagnato la storia del nostro paese La strage alla stazione di Bologna nel 1980, il mostro di Firenze, il delitto di via Poma a Roma, la scomparsa di Mirella Gregori e di Emanuela Orlandi sono solo alcuni dei temi che verranno affrontati da scrittori, giornalisti, avvocati e criminologhe ma non mancheranno appuntamenti teatrali Giallo non muore mai, anzi parla di morti ma è sempre più vivo All'inizio francamente noi pensavamo di fare tre trasmissioni in TVL e di non fare nessun festival e fa po' fatti ci hanno smentito Tanti ospiti anche in questa edizione, alcuni presi anche dall'attualità anche perché quest'anno parleremo molto di attualità oltre che di libri ma le due cose si collegano insieme Chi consulta il programma può vedere che ci sono dei nomi che rappresentano veramente un'occasione importante della letteratura italiana ma ovviamente sono io coinvolto personalmente perché lo presenterò sicché Fino Ranucci che è in questo momento a livello giornalistico un personaggio di riferimento importante tra l'altro sarà qui per presentare il suo ultimo libro La Scelta La manifestazione è organizzata dall'Associazione Giallo Pistoia in collaborazione con il Comune di Pistoia il patrocinio e contributo del Consiglio regionale e della Giunta regionale della Toscana ed il sostegno della fondazione della Casa di Risparmio di Pistoia e Pescia Questo festival quindi è andato via via sempre più affermandosi e contribuisce a rendere vivace e dinamico così l'ambito culturale della nostra città Quest'anno misteri e casi risolti italiani è un tema veramente d'attualità e siamo molto orgogliosi di questa longevità di questo festival che è dato soprattutto dalla passione dell'Associazione Amici del Giallo Linea già da Benesperi per lo sport e noi ci rivediamo per le ultimissime